Salve a tutti ragazzi, qui TtD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua sulla versione global, sì siamo sulla versione global perché finalmente dopo mesi, anni, non si sa quanto, è uscito Gianemba Eza No, non sei te Eccoci qua, Gianemba Eza finalmente dopo secoli, il global l'ha voluto rilasciare, alleluia più che altro, grazie mille, vandai Eccoci qua a fare uno showcase, lo volevo fare qua sopra e non su un server, per il semplice fatto che qua sopra sul global ce l'ho, full ability da sempre, tutte le cose Quindi lo volevo portare normalmente in una super battle road, extreme inter, non ho Thales, quindi quello è un attimo il problema, non ho Thales per fare un movie bosses e fare lì una specie di extreme e divertirci con quel team Comunque ragazzi, finalmente è uscito, la carta è quello che è, la conosciamo già, molto 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 solida, attacchi e difesa 70% come base, abbiamo poi una guardia attivata contro tutti gli attacchi Quindi riesce a tankeggiare bene quasi tutto, abbiamo anche medium chance di evadere la special per un turno, gli attacchi in generale, per un turno e un additional attack più 40 per 4 turni dopo che la guardia si è attivata ragazzi Una carta veramente solita, basta che tanka e boom è bustata, stavo dicendo manca in realtà qualcosa per Gianemma, per giocarlo assieme Cavolate, 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 stavo dicendo un LR, cavolate non voglio un LR, basta LR, mi sono rotto le palle dell'LR, devo essere sincero ragazzi mi sono letteralmente rotto le scatole dell'LR E la situazione è proprio brutta nel senso, è veramente brutta, per quale motivo? Perché se state seguendo soprattutto il JAP, no? Ma anche il Global in realtà, con l'arrivo dei 300 milioni ragazzi arrivano due nuove LR così sembra E oltre a quello, se siete giocatori Global, sono le 6 LR di fila Wow, tantissimo, 6 LR ragazzi, sono tantissime Invece se state giocando al JAP in 7 mesi dall'uscita dell'anniversario, sono uscite 10 LR e 7 Dokkan Fest Quindi ragazzi, no? Quella è la situazione, in realtà non vorrei nessun cavolo di LR Mi piacerebbe a sto punto, visto che Gianemba ha anche una pretrasformazione, no? Gianemba ciccione, ecco Gianemba ciccione devono far uscire Che si trasforma in Gianemba, e non è una cavolo di LR, perché mi sta rompendo Giuro veramente, mi sta, mi sta, giuro Rompe le scatole la situazione, altre LR, altre LR, altre LR Le LR hanno perso valore, non sono più LR, sono rotture di scatole, per come la vedo Comunque, per quello, manca ancora qualcosina per Gianemba È un'ottima carta, cavolo, però Un buddy, un bel buddy da poterlo giocare assieme È l'unica cosa che gli manca veramente tanto Un'ottima carta, tanca, fa tutto in realtà, fa tutto Perché comunque è uno dei migliori Eza Solamente la poca giocabilità e le poche classi Ma vabbè, ok, non si può aspettare di troppo, no? Abbiamo comunque due team solidissimi, Movie Bosses E comunque abbiamo Transformation Transformation è un po' Il team più ridicolo, ovviamente, è il team più ridicolo in realtà Però comunque, no, si tratta che è una carta molto solida Manca solo qualcosina per essere veramente eccezionale Al 120% per essere veramente forte E l'unica cosa che gli manca è solo quello, secondo me Manca un attimo quell'aiutino Una carta che gli linka alla perfezione Perché comunque questo Eza è uno dei migliori Fa veramente un sacco di danni Oltre a fare un sacco di danni E vabbè, qua lo stiamo vedendo in un 100% Doppio 100% Perché stiamo usando doppio Doppio Bojack per avere più ki Fino a quando non esce Boo, diciamo che è un attimo Quasi semi-obbligatorio Se si vuole andare sempre in perma special Alla fine dei conti E la cosa del team extremista È sempre quella Questo problema di chi Ci aiuta Bojack Poi ci aiuterà E ci aiuterà In quel caso ci aiuterà Che anche lui dà 4 ki Quindi, ok Eccolo qua Mettiamolo primo Ora dovrebbe attaccare veramente forte Questa è la parte divertente Ora inizia a tirare le sassate ragazzi Finalmente il team inizia a girare Un attimo bisognava attivargli la passiva ragazzi Eccolo qua Inizia a fare i suoi danni seri Tutte le cose Buono, buono il cretino Fa veramente un sacco di danni questa carta ragazzi Può fare veramente tante cose E ripeto Siamo in un doppio 100% Non siamo in una lead 150 Non siamo in una lead 100% Siamo in una lead 100% 200% alle stats ragazzi È veramente ottima questa carta Veramente, veramente ottima Però, 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 però Solamente un attimo la rottura qua In questo caso volevo farlo con i movie bosses Ma nel jump non Non ce l'ho d'ability Ed era brutto in realtà Fare lo showcase della carta a zero ability È forte anche lì però Non ho neanche i Kai da sprecare Per questa unità Anche perché non lo vado a giocare Quella è la cosa Mi è buono e tutto Ma senza ability Non spreco nemmeno i Kai Non spreco or Non spreco niente ragazzi Aspetto un attimino Di trovare l'ability Con Kai Ma anche Poi parlando Soprattutto Adesso che arrivano i 300 milioni Arriva il banner 300 milioni Con i ticket Quindi alla fine dei conti Spero di poter trovare lì Qualche copia Alla fine Da quel banner Non mi serve poco o niente L'ability di carte vecchie Nemmeno dei 120 In realtà Mi serve solo l'ability Di qualche 70 Vegito Altri 70 Omega STR Selle STR Carte così Diciamo in generale Nulla di Nulla di nuovo Alla fine Anche perché comunque Tutte le carte Che sono presenti Come categorie Le ho tutte a full ability Tranne forse Goku Tra istinto Pochissima roba Non è che mi interessa Più di tanto Allora Gianemba Io non voglio usare item Però questo team Ha grossi problemi Di difesa In realtà La rottura Questa è un attimo La rottura Cerchiamo di Tenere il ki Perché comunque Ricordiamoci Abbiamo Bojack Kid Bu Non è il massimo Abbiamo sempre Quelle coppie belle Quindi Teniamo un attimo Il ki Però qua sono un attimo Costretto Ad attivare un item Vegeta 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 Quella è l'unica spiegazione Che si può dare Vegeta Non tanca Prende solo Delle gran botte Ovvio Non mi devo Spaventar di lui 22 milioni Buono Buonissimo danno Sempre considerando Il fatto è È un 100% lead Quindi alla fine Ci sta come danno Ci sta veramente Tanto come danno Come stavo dicendo Diciamo che Dal banner dei 300 milioni Sto solamente Cercando l'ability Di pg vecchi Pg vecchi Non mi servono Quelli nuovi Alla fine Ho una mancanza Di pg vecchi In realtà Più che altro E fra quei pg vecchi C'è Ok Gianemba Gianemba è uno di quei pg Che ad oggi voglio portare Ad ability Però Cavolo Non lo trovo mai Ne ho trovata una copia Una copia In tutte le summon Che ho fatto Ne ho trovato solo una copia Una rottura di scatola Perché è veramente forte È una delle carte Migliori come Ezza È una carta che vorrei Tanto ad ability Ce l'ho sul global E non sul japp Ed è un po' ridicola La situazione Un attimo Un po' ridicola La situazione Vai Bojack Intanto si sveglia Un attimino Bojack Finalmente Perché altro Queste road Cavolo Non le faccio Da troppo tempo Soprattutto con il mio global Non faccio queste road Colore da tantissimo tempo Grazie mille per la special Evasione Wow Si sono svegliati Wow Si sono svegliati Però ragazzi Ragazzi È vero Dobbiamo parlare un attimino Dei ticket State tranquilli Se non li avete ancora ricevuti Nessuno ha ricevuto ancora i ticket Poi ora parlo E domani All'uscita di questo video Tutti che ricevono i ticket Lasciamo perdere Però Buttiamolo un attimo lì No C'è questa I ticket arrivano Non Ancora però Non è ancora il momento Dei ticket Quindi Un attimo So è una rottura È veramente una rottura Di scatole Perché alla fine È un attimo Wow Banner Quattro ticket Mi ci pulisco Ecco Con quattro ticket Ci si pulisce un attimo Le parti basse Quindi un attimino Bisogna aspettare ragazzi Tutti devono aspettare Quindi c'è poco da fare Per quello Oh Gli addition C'è un attimo C'è un attimo da aspettare Un attimo Che arrivano i ticket È tutto Poi comunque Come ho detto Ora parlo Domani arrivano i ticket A tutti Quindi È inutile poi parlarne Però ragazzi Se non sono arrivati Tranquilli Non diventate scemi Non sono proprio arrivati ancora Li devono Li devono ancora dare Solo un attimo Una rottura Di aspettare Ancora un attimino Per quel banner Siamo un attimo In questa fase D'attesa Che è una noia È una noia Veramente Però ci si può Far poco ragazzi Dobbiamo attendere Un attimino Dobbiamo attendere Ancora un attimino Per ricevere i ticket Per iniziare a pullare Soprattutto per vedere Dei contenuti Perché Almeno Sul Jap Non c'è niente Tranne i ticket Sul global È appena uscito Goku Yardrath Ricordatevi di farmarlo Trovate anche il video Qua sopra Di Goku Yardrath Lo showcase Al 100% Del PG È un ottimo PG Non si sa mai Che poi ottiene un Ezzo Ottiene un qualcosa È veramente un ottimo PG Quindi farmatelo Soprattutto farmatelo È veramente buono Non perdetevi l'occasione Soprattutto al momento Diciamo Non c'è molto da fare Al momento Non c'è molto da fare Quindi sì Quell'attesa Dei ticket È una noia Bisogna solo aspettare Un po' La cosa È brutta Perché alla fine Non ci sono attualmente Dei contenuti Anche solo giocare Sì andiamo a prendere Il ticket giornaliero Facendo una daily Yeah che bello Un attimo una noia Quel periodo morto Precelebrazione grossissima Bisogna un attimo Proprio aspettare Perché non c'è Proprio niente da fare Un attimo Sul global per fortuna È uscito già Nenbezza Quindi c'è un qualcosino Ok Però È un attimo Una rottura Questo turno Fa un po' Schifo Fa veramente Schifo Però abbiamo il ki Abbiamo il ki Quindi possiamo Almeno Uccidere Si spera Perché in realtà Mi deve anche Crittare Uuuuh Abbiamo più ki Più ki Qua però io Mi vorrei un attimo Curare Perché Kid Bu Non è un grande Difensore Quindi andiamo in questo modo Prendimi gli orb Grazie mille Andiamo in questo modo Un attimo prendiamo Quell'attacco iniziale Ovviamente deve evadere Ovviamente Devono sempre evadere Non lo so Nelle road Che non me ne frega Più di tanto Vincere Devono sempre evadere Non si sa il perché Devono evadere Quando invece sto giocando Per fare dei record No Uuuuh La dice una di pugni Devo fare dei record Zero Zero da fare Zero Nada Non posso fare niente È una rottura assurda Una rottura veramente assurda Tanto finiamo questo turno Però dai Come danno A prescindere Parliamo un attimo ancora Di Janemba Come danno ci sta Come danno ci sta Ma in un team serio In un movie bosses Anche in un transformation Tocca i danni di Beerus Ragazzi quindi È un'ottima carta Sotto quel lato Non vorrei andare in dockham mode Vorrei finire qua Ma lo so benissimo Che andrò in dockham mode E me ne pentirò molto Una rottura Peccato peccato Vediamo un attimino Se sculo Un attimo i crit Anche se sarà impossibile Anche perché questo golden Se non sbaglio ability free Un po' dura Un po' dura Ok 2 milioni e 100 2 milioni e 100 Quasi 2 2 milioni e 2 Buono Buon danno Buon danno E soprattutto comunque Il tanking ce l'ha Quindi è un win win Diciamo Confronto Confronto a Beerus L'unica cosa che gli manca È solamente un buddy Sarebbe Dopo lo supera perfettamente Dopo lo supera veramente Alla perfezione Vabbè che qua abbiamo anche Il high chance di evadere Quindi ci sta bene In realtà è perfetto Per tankare le road Janemba Janemba è perfetto Per tankare le road Puoi evadere Soprattutto il primo turno In cui entra in gioco Subito inizia ad evadere Come un pazzo Quindi sotto quella Quel lato È veramente 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 Forte Janemba In road è veramente un mostro Mi sa che probabilmente Se esce una road movie bosses Nel mio job Sarà un po' difficile Però Nel mio global Sarebbe impossibile In realtà Ora che ci penso Non ho Non ho i leader Però si In una road così Diciamo che si prende Il suo slot Tranquillamente Dice Salve Io esisto Io tanko tutto Si prende un bello spazietto Di certo Uno spazietto migliore Di Beerus Perché La coppia Beerus Beerus Forte Danni Ma di tanking Molto meno Lasciamo perdere Il tanking Non è la Non è una cosa che conoscono I Beerus Il tanking Il tanking Non sanno proprio Minimamente cosa sia Lasciamo perdere Quindi Facciamo finta di niente Per quello Però Di certo Non ha road movie bosses Ora che arrivano le nuove road Vediamo se arriva Quella road Si prende il suo spot Tranquillamente Dice Salve Io sono qua Tanco tutto E vado tutto Appena entro in campo Sono un mostro E tutto E tutte le robe Quindi alla fine dei conti È un'ottima unità Ad avere Ad ability Soprattutto Ad ability Perché comunque Anche se è forte Ad ability free Ad ability Dobbiamo aver quasi Finito questa road Ragazzi Alla fine dei conti Dovrebbero morire Tranquillamente In questo turno Non sto neanche ad usare Item perché alla fine Riceviamo un colpo serio Dopo abbiamo già Nemba E là Eva Eva Back to back evasion 2 milioni Danno massimo 200% alle stats 2 milioni Non si schifa affatto Pensando solamente Che se fossero Un pochino di più Queste stats Sarebbero il triplo Quest'attacco Veramente Riesce a fare Dei danni Abnormi Con una category Con una category Addio Goku È stato un piacere Vediamo di stannare Chiudiamo così la road Con un bello Stam finale Sì Vabbè Lasciamo perdere Ci speravo Più che altro Quello Ci speravo Ci speravo Ma è un po' infattibile Con la chance bassissima Che ha Lasciamo proprio perdere È più che altro Un sogno Un sogno Che spero Succeda Ma Non avviene quasi mai 1 milione e 4 Bojack Dovrebbero bastare Questi due colpi In circa Abbiamo comunque Secritta Secritta Dovrebbero bastare Ragazzi Secritta Abbiamo finito Qua la road Ok Vabbè Non serviva il crit Perfetto Ragazzi Abbiamo terminato Questa Super battle road Extreme Abbiamo provato Abbiamo provato Assieme Gianemba Non avevamo mai Fatto lo showcase Di Gianemba Ragazzi Eccolo finalmente qua Ottima unità Ottima unità Veramente ottima Detto questo Comunque ragazzi Gianemba è super figo Io spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fatemelo vedere Lasciate tanti bei Mi piace Commentate E ovviamente Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Ragazzi Io vi ricordo Che potete seguirmi Sulla pagina facebook Instagram e twitter Tutti i link li trovate sotto In descrizione Oltre a quello ragazzi Trovate anche il link In descrizione al canale Twitch dove vado a fare la live Quasi ogni giorno Tranne il sabato Alle ore 21 Venite a dare un'occhiata Mettete il follow ragazzi Detto questo Noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Grazie.